Hai mai desiderato sapere qual è il vero nome di Dio in ebraico? E cosa significa? Oggi ti sveleremo il significato del tetragramma, il nome proprio di Dio rivelato nella Bibbia. Il nome proprio di Dio in ebraico è Yakvuachaka, noto anche come il tetragramma, poiché è composto da quattro consonanti ebraiche. Queste quattro lettere derivano dalla radice, verbo ebraico, a tre consonanti Hachkeyak, Haya, ovvero essere. Il nome Yahweh è una parola composta da tre verbi, Haya, Hove, Iye, che significano rispettivamente Egli era ciò che era, Egli è ciò che è, Egli sarà ciò che sarà, oppure colui che fa essere, quindi il creatore o il realizzatore delle sue promesse. Il nome ebraico di Yahweh definisce non solo chi è, ma anche la sua natura, e nella sua natura troviamo un Dio vivente ed eterno, su cui possiamo contare, poiché Lui è, è stato e ha mostrato di essere, e ci sarà mostrando di essere per sempre. Grazie a tutti!